Pochi giorni ancora e dopo tante peripezie sulle cozze alla diossina il trasferimento finalmente si farà. I mitili saranno spostati e tutto pronto, ha spiegato l'assessore comunale all'ambiente Sebastiano Romeo. Il tempo di acquistare le boe e i mitilicoltori che hanno la concessione potranno trasferirsi dal primo seno di Mar Piccolo a Mar Grande. È uno spiraglio per gli addetti ai lavori che potranno spostare gli impianti di mitilicoltura che insistono nelle acque risultate contaminate di diossina e PCB. Sarà comunque un trasferimento temporaneo in attesa che ci siano le bonifiche delle aree contaminate. A rallentare la procedura forse qualche affraintendimento sembrava fosse prima un problema legato a un'autorizzazione attesa dalla Marina Militare di Taranto. Poi invece c'era stata un'ulteriore richiesta di pareri e valutazioni che sembravano aver rallentato le cose. Si era così temuta la crescita dei militi che avrebbe impedito il trasferimento. Una preoccupazione rilanciata anche dalla Camera di Commercio che in questi mesi attraverso un suo tavolo tecnico coordinato dal vice presidente Leonardo Leogrande aveva praticamente seguito tutti i passaggi a tutela del comparto della mitilicoltura. Invece l'ok dalla Marina è arrivato e a quanto pare insomma non manca proprio nulla. A giorni dunque Taranto vedrà il trasloco delle sue prelibatissime cozze.